Settimana impegnativa per i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia, attività finalizzata a contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani di giovanissimi. Numerose le perquisizioni e i rastrellamenti effettuati con l'ausilio dei carabinieri delle stazioni e dello squadrone di portato cacciatori di Calabria. Duplice l'obiettivo cercare di distruggere le piantagioni di canapa indiana e stringere il cerchio intorno agli spacciatori in azione nelle zone balneari soprattutto in quelle montane del comprensorio delle serre. A Nicotera Marina è stata scovata tra la fitta vegetazione di un terreno agricolo abbandonato una piantagione di cannabis indica costituita da 2000 piante dell'altezza media di un metro. Sempre nel territorio di Nicotera i carabinieri hanno arrestato un soggetto già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno trovato una busta contenente della marijuana già pronta oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In questo caso l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. A Capistrano i carabinieri della stazione di Monte Rosso e dei cacciatori hanno trovato un fusto interrato nel sottobosco e località Coccari con dentro un chilogrammo di marijuana.